L'assemblea annuale di AssoContact, siamo in compagnia di Sergio Aracu, founder area legale e data protection officer di AssoContact. L'implementazione tecnologica e protezione dei dati, quanto è avanti il BPO rispetto agli altri settori nel nostro paese? Allora, sì, sicuramente posso dire che è forte la spinta nel mondo del BPO rispetto ad altri settori, proprio perché è uno di quei settori in cui l'implementazione tecnologica può veramente dare il salto di qualità. Quindi è molto avanti rispetto ad altri settori, non siamo ancora arrivati a una fine, non ci sarà mai forse un punto di fine all'implementazione. Quanto è importante la protezione dei dati nella platform economy? Ormai tutto viaggia con i dati, saperli proteggere, che siano dati personali o dati aziendali o comunque industriali è prioritario. Quindi lo darei per fondamentale. Perfetto, grazie.